Ci siamo, nelle prossime ore arriveranno anche nella nostra regione i vaccini per le nuove varianti. Sì, è vero, in questi giorni stanno arrivando queste nuove dosi di vaccino, ne sono più di 100.000 che noi andremo a distribuire sulle 4 alz in base al numero della popolazione. Voglio innanzitutto ribadire che la vaccinazione è su base volontaria. Questo vaccino, che copre tutte le varianti, può essere somministrato agli over 60 come quarta dose e ai fragili. Invece può essere usata come terza dose agli over 12, ai sanitari e a tutti coloro che lo vogliono fare. Comunque una bella notizia in vista dell'autunno, anche dalle riaperture delle scuole. Senz'altro la vaccinazione ha funzionato e senz'altro è un elemento importante perché porta maggiore sicurezza. Però noi continuiamo a lavorare, vedo che questa nuova ondata è un'ondata che abbiamo saputo anche gestire attraverso la nostra attenzione, monitorando in continuazione e quindi dando delle risposte giuste. Il 12 settembre apriranno le scuole assessore, si parte all'insegna dell'ottimismo ma ovviamente con un'attenzione sempre massima al mondo scolastico. Sì è vero, il mondo scolastico è un ambiente a cui noi abbiamo posto sempre attenzione, abbiamo portato avanti tutto ciò che sono le norme di sicurezza. Proprio ieri in una commissione salute a livello ministeriale si è data la possibilità di poter anche dotare ogni classe, ogni aula di attrezzature per delle ventilazioni adeguate affinché ci possa essere un'aria sempre più salubre.